Per la prima volta dall'inizio della campagna elettorale, il leader dell'estrema destra francese, Jordan Bardellat, e quello dei conservatori, Eric Siot, hanno partecipato insieme ad un evento ospitati dalla Medef, la Confindustria Transalpina. I due hanno esposto e difeso i loro programmi economici, dopo che in particolare quello di Bardellat ha suscitato ampie perplessità. Ad unire i due è certamente anche la critica all'operato di Macron, giudicato un disastro dal punto di vista economico. Le elezioni anticipate in Francia sono viste come un rischio non solo sul piano politico, ma anche dal punto di vista economico, poiché potrebbero portare la nazione europea in una fase di incertezza. Un lavoratore di un'azienda che produce componenti per il settore aeronautico esprime così la propria inquietudine. La dirigenza ha deciso di procrastinare un investimento. L'incertezza politica si è riverberata anche in Europa con i mercati che la scorsa settimana non hanno reagito bene alla prospettiva delle elezioni in Francia.